Re 150 abbonamenti, più di 2000 biglietti venduti e migliaia di visitatori che hanno assistito a spettacoli e concerti gratuiti. Sono i numeri dell'edizione 2015 del Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria, che ha chiuso i battenti domenica scorsa, riscuotendo un successo atteso, ma che anche quest'anno è andato al di là delle aspettative. Materia, paesaggi, saperi. Queste le parole chiave scelte dai tre direttori artistici Riccardo Carbutti, Mario De Vivo ed Antonella Papeo per festeggiare il diciannovesimo compleanno della Kermes, che si conferma patrimonio culturale della città. Una tradizione che si è rinnovata positivamente, nonostante alcuni rallentamenti di natura organizzativa. Questo festival purtroppo ha scontato il periodo di stand-by rispetto al momento della competizione elettorale, per cui non aveva avuto la grande partecipazione emotiva che ha sempre accompagnato l'edizione del festival rispetto all'inizio della rassegna. Quest'anno, proprio in virtù di questa necessità e di questa situazione contingente, c'è stato chiaramente un ritardo nell'avvio, però devo ringraziare i direttori artistici, devo ringraziare l'organizzazione, tutti coloro che hanno i partnership, il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, l'Associazione Malearti, il Forum dei Giovani, le associazioni che hanno chiaramente dato il contributo, tutti i volontari, perché poi hanno recuperato il tempo perduto e hanno offerto il massimo della disponibilità in termini di professionalità, di competenza e i numeri testimoniano che c'è stata una grande qualità del prodotto. Oltre 30 gli spettacoli andati in scena dal 23 al 30 agosto, tra cui una prima nazionale e sei debuti regionali, con il centro storico a fare da palcoscenico privilegiato della manifestazione, che non ha fatto troppo sentire la mancanza del Castel del Monte, non utilizzato come location per lavori in corso, ma che tornerà nelle prossime edizioni ad essere il luogo simbolo del festival. Teatro, arti visive, musica e letteratura hanno abitato gli spazi della Kermesse, declinando il tema del contemporaneo ed esorcizzando il concetto di crisi, anche senza tralasciare alcuni temi sempre scottanti ed attuali, come la mafia e la violenza sulle donne. E poi tanti eventi di punta, da Political Incorrect, la mostra di Luca De Marche che ha aperto il calendario degli appuntamenti, all'installazione di Le Terme, passando dal mondo delle marionette della festa dell'imperatore, agli ambienti fiabeschi delle mille una notte. Non è mancato anche quest'anno il consueto appuntamento con la musica, che è andata a braccetto con il teatro per tutta la durata della maratona. Da ricordare su tutti il tributo jazz a Jim Morrison di Luca Quino, l'omaggio alla canzone italiana al femminile della cantante Siria e la straordinaria esibizione in acustico di Niccolò Fabi, che ha chiuso la Kermess porgendo alla città l'ultimo saluto del Castel dei Mondi. Un saluto che, sia chiaro, non è certo un addio, ma solo un semplice arrivederci alla prossima edizione. Ci lavoreremo da subito perché, proprio in relazione a quelle che sono le modifiche che hanno comportato il sistema di contabilità degli enti locali, è difficile non programmare. Solo attraverso una seria programmazione si possono coniugare razionalizzazione di spesa, ottimizzazione dell'offerta e della produzione e soprattutto scelte importanti e anche di partnership importanti, da un punto di vista dei privati, ma anche attraverso l'attingimento a quei finanziamenti che magari oggi ci sono e soprattutto ci possono essere, soprattutto in questa fase storica, atteso che siamo in fase di programmazione della nuova programmazione comunitaria 2014-2020. Grazie.